buongiorno a tutti dal vostro milanista faccia siamo qui a registrare il video pre partita di spal milan dopo ieri con il post partita di milan roma siamo qui subito spal milan questo è uno dei primi tanti video consecutivi crescente usciranno per il tour de force del campionato spal milan veniamo in due partite ottime non consideriamo quella della juventus perché non è stata una partita ottima come abbiamo giocato quindi due partite ottime dove abbiamo vinto 4 a 1 con lecce due gioco da roma milan che sta trovando quella strada che pare che la sta dirigendo verso la fine del tunnel comincia a vedere un cipro di luce però attenzione siamo calmi non parliamo troppo prima troppo prima perché questo milan da quando sta per uscire dal tunnel che vede tutta la luce prende la marcia mette la retromarcia e ritorni indietro spal milan dalla carta c'è una partita facile per noi pure come stiamo andando ultimamente in mila che cerca i punti quindi dovrà insiste del fa una partita due dei combatti senti mister piolli fa un turn over ancora non mi sono informato sulle informazioni ma appena da fuori vi aggiano sulla mia pagina instagram quindi seguitemi pure lì e vedere le formazioni di spal milan e dunque per me il mio favorito nettamente favorito la spalla ormai lì che cerca pure di fare qualche punto in più vediamo io spero che c'è fatto 9 giorni di sempre abit io penso e dove andare sempre abit anche se potrebbe pure aggiornare un leao mettere leao vediamo speriamo perché questi sono punti importanti siamo a meno 6 dalla roma in mila è lì che lì che sta attaccato alla zona europa league quindi il nostro obiettivo è qualificarsi quest'anno ormai alla europa league e dare un po di esperienza questa squadra per i prossimi anni con le competenze europee speriamo speriamo che poi con l'arrivo di rafforado e chissà se magari è l'ottimente a da no a da no cominciamo a risorgere come squadra non come magari i vecchi tempi che conosciamo noi benissimo ma una squadra decente che fa il suo pure in europa il video comunque finisce qua vuoi che credita di questa partita fammi domani che aveva nei commenti e soprattutto mettere un like questo video condividetelo e se volete passare sulle mie social facebook e instagram come ho detto prima i miei stappaccio e su tiktok i miei stappaccio official e sul mio canale secondo canale youtube su mondo del gaming android gaming 96 ci vediamo in un prossimo video che sarà giovedì dopo partita quindi oggi è martedì giovedì prossimo video e bene e male forza milan forza italia ci vediamo giovedì post partita di spar milan quindi giovedì 2 giovedì 2 luglio un saluto tutti da tutti dal mio saluto al prossimo video